Una distesa di bare in piazza del popolo a Pesaro a simboleggiare le 146 vite perse sul lavoro nelle Marche negli ultimi 5 anni. Questa mattina la piazza si è presentata come mai prima d'ora. L'immagine, il colpo d'occhio dall'alto è forte e doloroso. Ad organizzare la manifestazione La Will, che ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul tema delle morti bianche. Come dicevo è sicuramente un messaggio d'impatto, è un pugno nello stomaco, però ci siamo stancati del cordoglio del giorno dopo, dei 5 minuti della lacrima che esce e poi dopo del fatto che questo non si trasformi in azioni concrete. L'iniziativa rientra in zero morti sul lavoro, la campagna che attraversa l'intero paese, ha spiegato Ivana Veronese, segretaria nazionale della Will, che ha poi ricordato l'importanza di un confronto serio con il governo e ha sottolineato l'assenza di misure adeguate. Noi vogliamo un confronto vero perché vogliamo veramente arrivare a far sì che non ci sia nessuna famiglia che deve piangere la vita di una donna o di un uomo, di un ragazzo o di una ragazza che non torna a casa la sera dopo essere andato al lavoro. Per un giorno la città di Pesaro è diventata capitale della sicurezza. Prima un incontro in Sala Rossa, poi la manifestazione in piazza con un monologo dell'attore marchigiano Andrea Caimmi. Per noi sicurezza significa proprio cultura della sicurezza che significa cultura della vita, di come il valore della vita umana deve essere messo al centro anche del sistema lavoro. 146 bare in piazza che sono 146 morti sul lavoro, addirittura non considerando quelli in itinere, nelle marche negli ultimi cinque anni. Mentre dietro a quei numeri ci sono famiglie, ci sono persone, ci sono affetti mancati e non si può uscire di casa per andare a lavorare e non sapere se si rientra. Quindi chiediamo che ci sia sicuramente cultura che significa formazione anche. Però chiediamo che ci sia lavoro di qualità perché se c'è lavoro di qualità significa che il lavoratore è formato, non viene messo di fronte ad una macchina senza sapere il suo funzionamento, non ci sono lavoratori immigrati messi a lavorare che ancora non parlano l'italiano, non c'è lavoro precario perché grossa parte degli infortuni colgono proprio i lavoratori precari che chiaramente sono più soggetti perché meno formati ma anche perché c'è una pressione del lavoro nei loro confronti importante. E poi c'è il sistema sanzionatorio. Ad appoggiare la manifestazione anche il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, il primo cittadino ha sottolineato il dato relativo alla vulnerabilità dei lavoratori stranieri. Il 65% delle vittime sul lavoro sono extracomunitari, spesso costretti a lavorare in condizioni pericolose e senza tutele, ha detto il primo cittadino nel suo intervento in piazza.